Susanna Ciccardi oggi è un membro del Parlamento Europeo che siede al fianco di Marine Le Pen. Cosa vuol dire? Sta con quel gruppo che vorrebbe distruggere l'Europa. Il leader di Italia Viva lancia in resta, si scaglia contro la candidata leghista Susanna Ciccardi che negli scorsi giorni non aveva avuto parole tenere nei confronti di Renzi. E così l'evento a Navacchio di Cascina all'interno del polo tecnologico, un evento di presentazione dei candidati regionali e comunali di Italia Viva si trasforma in un appuntamento programmatico e di identità del partito, certamente per lanciare un allarme antileghista. Chi vuole la toscana regione d'Europa vota Gianni. Chi vuole una toscana sovranista anti-europea vota la Ciccardi. Ma senza dimenticare alcune sottolineature a proposito dell'alleanza tra PD e 5 Stelle. La mancata alleanza con il Movimento 5 Stelle potrebbe pesare alla fine? Io dico che se c'era il 5 Stelle non ce l'avamo noi. Perché parliamoci chiaro, una cosa è il Movimento 5 Stelle a livello nazionale per mandare a casa Salvini, bene. Ma fare come ha fatto il PD in altre regioni, per esempio qui vicino in Liguria, e immaginare di consegnare la storia del riformismo ai giornalisti del Fatto Quotidiano, come è accaduto con Sansa in Liguria, per me è inaccettabile.